Allo stadio Paolo Borsellino di Volla, l'Isola di Procida vince in trasferta 3-1 contro il San Sebastiano. I padroni di casa partono meglio e tengono il pallino del gioco, ma la partita cambia al minuto 40 quando il guardaline richiama l'attenzione dell'arbitro e subito dopo spunta il cartellino rosso ai danni del numero 5 di casa, Lucignano. Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa, mister Iovine già opera i primi cambi per approfittare della superiorità numerica. La mossa vincente è l'ingresso di Cibelli al settimo della ripresa al posto di Ambrosino. Il numero 17 nel giro di pochi minuti va in gol due volte. Prima al decimo calciando di destro una palla proveniente dalla fascia laterale, poi al ventitraesimo con una azione solitaria fino a dentro l'area di rigore. Emozioni anche nel quarto d'ora finale. A dare l'illusione di chiudere il match al trentatreesimo è Pianese con una splendida rovesciata in area, ma cinque minuti dopo ad accorciare le distanze è Guadagno con una bella punizione da posizione defilata. Sullo scadere del secondo tempo, tenace azione solitaria di Costaiola che entra in area e viene atterrato. Ad incaricarsi di tirare il calcio di rigore è Micalo, ma Loffreddo indovina l'angolo e lo para. La partita termina 3-1 per gli isolani che salgono a quota 17 punti in scia playoff.